Viaggio su rotaia e carrozze blindate. Il leader nordcoreano Kim Jong-un è arrivato in Russia sul treno usato dalla sua famiglia per decenni durante le rare visite all'estero. Secondo Washington, l'obiettivo del viaggio è quello di chiudere un accordo che permetta alla Russia di avere gli armamenti di cui ha bisogno per la guerra in Ucraina e alla Corea del Nord di avere aiuti economici e tecnologia militare. Mosca ha bisogno del sostegno nordcoreano per il prosieguo del conflitto, considerato il fatto che l'Ucraina continua a ricevere un flusso costante di armi dall'Occidente e avrà presto anche gli aerei F-19. Pechino non è rimasta indifferente al primo viaggio di Kim Jong-un dall'inizio della pandemia. La Cina ha assicurato di essere pronta a promuovere ulteriori sviluppi delle relazioni bilaterali.